buongiorno a tutti e ben ritrovati andiamo a risolvere questo esercizio si tratta di un circuito regime sinusoidale con un generatore dipendente un generatore di corrente dipendente pilotato in in tensione quindi pilotato dalla tensione su vr 1 quindi questa che vado a ridisegnare svolgo questo esercizio sperando che possa essere d'aiuto poiché me l'ha chiesto calogero di fare un esempio con generatori pilotati in regime sinusoidale adesso magari farò quello di corrente poi cercherò di inventarmi qualche cos'altro con un generatore di tensione pilotato in corrente in tensione vedo un pochettino bene e tra un attimo ci vediamo per svolgere insieme una domanda che mi è stata posta è quella di come utilizzare i generatori dipendenti beh semplicemente per forza di cose dobbiamo in qualche modo studiare sia la maglia dove è inserita la grandezza da cui dipende il generatore sia la maglia del solo generatore perché ovviamente la parte di qua non ha la informazione che ci interessa quindi dobbiamo ricavarla dall'altra parte ora in questo caso e volendo trovare la potenza su l1 la cosa diciamo un po più ovvia che viene da fare quella di poter utilizzare un tevenin facendo un taglio qua cioè isolando in poche parole l1 quindi se io taglio qua e taglio qua qui ad esempio metto il nodo a qui il nodo b e vado a studiare il circuito togliendo l1 quindi studio il circuito equivalente vedo che cosa succede e poi una volta che ho il circuito equivalente di tevenin posso andare a trovare in modo più agile la potenza su l1 allora intanto per portarci avanti andiamo a trovare un po di fasori delle grandezze che sono in gioco allora la e in questo caso l'ho messa a 200 radice di 2 così il suo fasore ci rimane 200 angolo 0 oppure le mettiamo possiamo metterle mettiamolo comunque così poi se ci serve sia la forma sinusoidale che la forma polare vediamo un attimino di convertirle e poi vabbè ovviamente le ZR saranno sempre 50 ZC1 dovrò andare a fare meno J allora scrivo la formula poi vi scrivo direttamente il risultato se no poi viene un po' troppo lungo quindi 1 fratto anzi lo scrivo così 1 fratto omega C e omega è 500 così e se non ho sbagliato i conti allora mi veniva meno J 100 poi Z L1 invece è J omega L J omega L e questo viene J 25 ok poi che cosa ci conviene fare? allora supponiamo ad esempio per non andare a rifare il circuito suppongo un attimino di averlo così così lo sgancio e se no diventa un po' troppo grande il tutto allora devo andare a ricavare la tensione VAB a vuoto quindi quello che ci conviene fare è andare a calcolare la VA quindi fare quindi fare VAB uguale VA meno VB VA meno VB poiché tutte e due hanno come riferimento comune il nodo di sotto quindi se io faccio posso farlo così io posso farlo come pensando al discorso di avere qua una sorta di massa e quindi vado a fare la tensione su VC1 la tensione su R2 qua la corrente fa così quindi la tensione farà così e quindi vado a svolgere poi questo giro di maglia ora come vado a ricavare la VA allora la VA quindi posso farla così in forma complessa allora la VA la posso calcolare col partitore quindi vado a fare VA uguale a 200 per linea di frazione ZC1 quindi io metto direttamente i numeri quindi meno J100 fratto 50 meno J100 ovviamente qui svolgo e vado a razionalizzare e anche qua se ho fatto i conti giusti con un po' di passaggi dovrebbe venire 160 meno J80 e qua lo stesso ci mettiamo il suo puntino ora poi possiamo andare a calcolare anche a questo punto la VR1 la VR1 la possiamo fare o rifare il partitore o diciamo non ha molto senso perché sappiamo il valore puramente reale del generatore che è 200 possiamo direttamente fare 200 meno VA quindi meno 160 meno J80 e quindi ci rimane un 40 più J80 a questo punto posso andare a ricavare la VB quindi la VB che è pari a meno GVR1 per ZR2 quindi sarà meno 4 per aperta parentesi VR1 che è 40 più J80 e tutto moltiplicato per 50 quindi VB mi viene meno 8000 meno J 16000 ora se vado a fare VA sempre questo sempre forme complesse qua e qua se vado a fare adesso VA VAB 0 volendo che sarà poi uguale alla nostra ETH sarà abbiamo detto VA quindi 160 meno J80 meno aperta parentesi meno 8000 meno J 16000 quindi mi viene 8160 più J 15920 ora una volta calcolato questo posso calcolare la ZTH e la ZTH ovviamente questo lo andrò a cortocircuitare in questo modo la VR1 sarà 0 e quindi qua si aprirà e tra qua e qua mi rimarrà la ZR1 parallelo a ZC2 ZR1 parallelo ZC1 e poi in serie con ZR2 allora questo quindi facendo i vari conti anche qua se non ho fatto errore di calcolo spero di no sarà 4000 meno J 2000 1000 a questo punto io quello che avrò sarà il mio circuito fatto in questo modo allora in cui qua avrò il mio generatore avrò quindi il mio generatore sinusoidale qui avrò la ZTH e qua ci riaggancerò quindi avrò qui A qui B qui ETH qui ZTH e qui la ZL1 ora posso andare a calcolare la corrente che scorre quindi posso andare a calcolare ovviamente il discorso del anche qua del fasore TOT ma poi alla fine siccome la potenza quello che ci chiede è la potenza su ZL1 e su ZL1 ci sarà comunque una potenza reattiva quelle alla fine quello che ci serve è solo il modulo della I totale quindi non ci interessa portarci dietro la fase e quindi possiamo scrivere ZL1 per I TOT al quadrato quindi possiamo andare a trovare il semplicemente il modulo di TOT e lo facciamo come rapporto tra il modulo di ETH fratto il modulo di modulo ETH fratto modulo di ZTOT modulo ZTOT allora ETH ce l'abbiamo qua andiamo a trovare il modulo ZTOT invece qui abbiamo ZTOT sarà uguale a ZTH aspettate che lo scrivo ZTH più ZL1 quindi alla fine sarà 4050 meno J meno J 1975 perché ovviamente faccio 2000 più il 25 della ZL1 quindi vado a trovare i due moduli qui quindi mi viene 17889 17889 diviso 4517 e questo mi dà un modulo della i totale di 3,96 ampere a questo punto vado a sostituire qua ovviamente il modulo di ZL1 è 25 quindi mi basta fare 25 per 3,96 al quadrato e avrò la potenza reattiva su potenza reattiva che viene 392 var ok se poi facendo la controprova dei vari sfasamenti se uno volesse fare poi S totale Q totale e P totale ovviamente la parte della P totale è dissipata sulla parte resistiva della Z totale mentre quella reattiva sulla parte appunto reattiva bene spero che questo possa essere d'aiuto di essere stata chiara fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video o' n'abbiamo n'abbiamo